Siamo qua con Alfio Inciguerra, terzino della Terios, della formazione nero-verde che forse ha ingranato in questo momento la marcia che li porterà molto in alto in classifica. Tu hai visto la partita con la Mucerabia che era data comunque come una formazione temibile, quando invece la partita ha detto tutt'altro? Era una squadra che noi temevamo molto, la rispettavamo molto, purtroppo per loro e per fortuna per noi la partita si è messa subito in discesa che nonostante i loro vantaggi siamo riusciti subito a riprendere la partita e a mettere qui sul 4-1 e diciamo che la partita è stata chiusa quando siamo messi sul 4-1 appunto. Abbiamo notato una grande vena realizzativa finalmente del vostro bomber che sembra essersi sbloccato, le polveri bagnate inizio campionato e sembra avere comunque intrapreso la strada del gol. Sì, Luca sappiamo che comunque per noi è molto importante, questo modulo esalta in quanto essendo l'unica punta e giocando nel centrocampo a tre e gli arrivano molti palloni sia nel centro che nelle fasce e comunque lui riesce sempre a metterla dentro. Abbiamo una domanda da studio? La domanda è per Alfio e ci chiedono a chi dedichi questa vittoria così importante? Dedico questa vittoria ai miei compagni dato che comunque io non sono stato molto presente in questo campionato e mi fanno stori i gesti di dietro dalla regina. Però è comunque sempre uno del gruppo? Certo, questo sicuramente, ogni volta che possa essere disponibile lo sarò sempre disponibile. Bene, grazie a Piazzo, buonasera.